Ari eccoci qua! Bella a tutti dal vostro Gabbo man! Oggi siamo tornati con un nuovo video visto che ho una marea di agenti free da smaltì come ho detto la scorsa settimana dobbiamo darci una bella sfoltita. Io senza pensarci troppo vado subito a contratto guardate 254 agenti free. Poi allora che vogliamo fare oggi? L'altro giorno abbiamo provato a combinarli esci da una schifezza non ho beccato neanche un pallone oro. Visto che di solito con un singolo agente free riesco a pescare gli oro io adesso voglio fare questo esperimento. Oggi ci facciamo una decina di pescare con un agente singolo vediamo se riusciamo a beccare qualche pallone oro così è la riprova definitiva che comunque combinarli o non combinarli è la stessa cosa anzi forse è pure meglio non combinarli. Bene allora vediamo un po' punta questo proprio mi ispira io lo faccio subito come prima pescata del giorno vediamo che ci esce fuori contattiamo per le trattative ingaggiamo dai eh io porto il conto a mano vediamo un po' eh vediamo che è questo naturalmente ci sta solo un pallone nero solo un pallone oro non ci sta di meglio ecco questo è oro questo è oro questo è oro vabbè oh è argento comunque è un giocatore da podio oro nero oro argento parker vabbè non è male dai 57 di tecnica 59 di velocità 46 di fisico è sudafricano però non gioca da nessuna parte questo si allena a parte 28 anni vabbè dai non è malaccio dai questo per la novellini è veramente oro colato confermamolo aggiungiamolo subito ai membri my club andiamo con la seconda pescata del giorno a me sto trequartista pure non è che mi ispira di più quindi contattiamo per le trattative ingaggiamo il giocatore questa è la seconda pescata del giorno dai però oggi voglio un oro eh oggi voglio almeno un oro perché non è possibile che l'ultima volta non ne ho pescato neanche uno o ammazza un altro argento vabbè ma contento pure di quello vediamo un po' chi cazzo è handrake gioca nel derby shire mai sentito in vita mia comunque è giovane c'ha 22 anni alto 1.85 molto equilibrato tecnica e velocità fisico diciamo che sta un po' dietro però comunque non è malaccio dai questo pure novellini e pedalare confermamolo aggiungiamo ai membri my club terza pescata del giorno vediamo un po' eh allora cerco qualcosa di pisellone proprio eh vediamo un po' vediamo un po' controllo palla mi piace perché potrebbe uscire un bel giocatore tecnico quindi contattiamo per le trattative terza pescata del giorno dai vediamo chi è quest'altro forza fate vedere io schiaccio subito schiaccio poi su un nero quindi magari mo gira e riesce eccolo qua oggi è la sagra del pallone argento a noi ci va bene tutto perfetto vediamo un po' chi è questo mazza e faccia o per fortuna comunque non è sempre la solita faccia è ogni edin ma mai sentito pure quest'altro comunque c'ha solo 17 anni non è male per 17 anni o 70 di vgg questo sarebbe buono pure per la master league porca miseria o c'ha margini di miglioramento veramente buoni ok molto equilibrato confermiamo pure lui aggiungiamo ai membri my club quarta pescata del giorno andiamo con equilibrio va vediamo che ci esce fuori con equilibrio solitamente o esce in portiere o esce in difensore vediamo e vediamo se stiamo smentiti o meno eccolo qua ammazza il pallone nero è molto vicino vediamo se c'è rigira vediamo se c'è rigira vediamo se c'è rigira e vabbè e mo siamo scesi di gradino praticamente fuori dal podio siamo sul bronzo questo è i barra ma chi è 41 anni porca puttana incredibile ancora giochi in desirotti i coglioni vabbè 46 di tecnica 40 di velocità giustamente a 41 anni che volevamo pretende 59 di fisico gioca nello sport uancaio è peruviano tutti io i becco i peruviani bene così andiamo subito avanti perché in 41 anni non si può guardare quinta pescata del giorno allora vediamo un po io andrei sul passaggio alto sono tutte comunque abilità che mi ispirano quindi andiamo così vediamo chi è quest'altro dai abbiamo detto dovrebbe essere la quinta pescata del giorno eccoci qua io faccio girare le palle fermate sul nero e fermate sul nero dai da da addio mamma mia di poco di pochissimo mannaggia la miseria e mi è capitato un pallone bianco 63 di valutazione generale questo è ruan fa un po schifo vi dico la verità 42 39 36 in se può guardare vabbè ci è andata così confermamo niente o palloni oro non ce ne stanno aggiungiamo pure lui ai membri my club continuiamo a sfolti gli agenti free andiamo su che beh posso dire elevazione vai punto di forza elevazione forza così contattiamo per le trattative ingaggiamo pure quest'altro sesta pescata del giorno vediamo un po chi è dai è così schiaccio sempre sul nero schiaccio però non capita mai poi a giro questo 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 è bronzo vabbè sarà uno stronzo perché giustamente se fa rima sarà così è bruno alves ma non è quello forte di bruno alves è un altro vabbè 67 comunque c'ha 44 di tecnica che vabbè velocità 50 e fisico 55 diciamo che è un buon difensore confermamo pure lui aggiungiamo le membri my club mancano tre pescate per oggi boh mi ricordo vabbè facciamo la settima credo che sia allora contropiede sì mi piace forza così contattiamo per le trattative ingaggiamo il giocatore eccoci qua forza voglio un pallone oro ancora non ho visto manco oggi è incredibile devo fare le secche singole le pescate perché sennò gli oro non capitano niente ci ha rigirato quindi non capiterà sicuramente ritorniamo però sui palloni argento che a me schifo non me fanno questo è un portierone è un fenomeno è Zhang Liye ma chi è boh gioca nel Guizurren ha 32 anni ammazza 1,90 comunque è un bel fisico di base 70 vabbè tanto comunque io li faccio snovellina 10 partite Licaccio merita qualche GP che comunque me servono e sta a posto così se conferma pure lui se aggiunge ai membri my club facciamoci una pescata con uno da una stella dai e allora vediamo un po' vediamo un po' sulle fasce dai che sulle fasce di solito capita sempre qualcosa di buono ingaggiamo il giocatore ottava pescata del giorno se non vado errato poi boh non lo so eccolo qua vediamo un po' e fermate sull'oro una volta ogni tanto mamma mia che palle oh è incredibile pallone bianco ma chi è Sakal gioca nel Wacipato ma do cazzo gioca questo tutti i cileni comunque li piocio l'abbonamento con i cileni non lo so perché boh la conami a me ma pioppa solo quelli vabbè 64 fa il terzino fa il cl vabbè non è malaccio dai come vi ripeto per la nove linea è tutto oro colato ce teniamo tutto non ce ne frega niente aggiungiamo ai membri my club allora io andrei ancora con una stella vediamo un po' possesso palla contropiede vorrei proprio un ruolo ah no velocità aspetta velocità mi piace deve capitare uno veloce vediamo se ci smentiscono dai è così forza allora io schiaccio in questo momento dai fermate almeno sull'oro non dico tanto non dico tanto ecco questo è oro questo è no non è manco oro è che cazzo è bianco un'altra volta che coglioni lo voglio veloce però devi essere un pisellone veloce vediamo un po' vabbè per essere in bianco con 61 devo UGG 54 e il Cristiano Ronaldo praticamente dei palloni bianchi dai non è male va bene così lo confermamo lo aggiungiamo ai membri my club vogliono un attimo a vedere quanti slot liberi mi sono rimasti perché così poi in base a quello decido quante altre pescate fare bene 104 ce ne manca una sola andiamo bene perfetto così perché io comunque ho 105 slot è una settimana è un mese so tre anni che sto a cercare sto cavolo di aumento slot giocatori scontato ma la Konami non lo rimette più quindi ce ne dobbiamo tenere gli slot che abbiamo eccolo qua ok 245 agenti ancora eh vi ho detto tutto io spero dei smaltilli prima che finisca pes 2015 e esca pes 2016 allora cerco un ruolo cerco un ruolo oh punta punta mi piace punta forza contattiamo per le trattative ingaggiamo il giocatore questo è totti sicuro guarda eh eccolo eh io vado eh io schiaccio eh vediamo eh fermate sul nero dai fermate sul nero oddio mio mamma mia ci è andato proprio vicino comunque pure oggi manca un pallone oro incredibile eccolo qua è mtembu e che ve devo dire 64 tv gg c'ha 48 48 43 sud africano pure questo non gioca da nessuna parte questi fanno la squadretta di carcetto e si vanno a fare le partitozze e così do capita perfetto 27enne 1 e 82 a regà se vi è piaciuto il video mi raccomando mettete un bel mi piace commentate condividete iscrivetevi al canale come promesso continuerò a smaltire gli agenti free pure sta settimana non è che abbiamo pescato granché quindi di conseguenza l'esperienza mi insegna che prima o poi anche con gli agenti free me capiterà un pisellone pallone nero detto questo vi do appuntamento alla prossima regà vi saluto bella a tutti da capo man ciao